Lei è il paranzaro, buonasera, quindi un po' anche dell'amore di papà c'è in questo giglio. Si va avanti nel suo ricordo, ormai sono dieci anni che non c'è più, quindi la stella lo tiene in vita. Lo tiene in vita e quindi la partecipazione ai gigli è sempre... Noi ringraziando a Dio non ci siamo mai fermati, nonostante la pandemia, siamo andati avanti anche in questi quattro anni di fermo, non ci siamo mai fermati, sia dal punto di vista sociale, culturale e naturalmente tenendo in vita il gruppo per poi tenerlo a disposizione del Vettoliere 2023. Ci avete una maestra di festa o no? Il fiore all'occhiello del Vettoliere. Il fiore all'occhiello. E quindi rosa, rosa satanica. Vecchia famiglia dei Lodi, dei gigliandi, Peppo Nasumi, io lo ricordo benissimo. Io non ero ancora nato, però comunque... Mario Lodi. Mio padre e i miei nonni me l'hanno raccontato. Quindi è brava, è bravissima. Ha portato grande entusiasmo. Onorata di far parte di questa storia. Ok.